Buongiorno, da qualche tempo abbiamo richiesto la nostra gamma con questo trattore, Solis 26 che sta per 26 cavalli appunto, monto a motore 3 cilindri Mitsubishi, componentistica elettrica Bosch, macchina con 3 marce avanti e una retromarcia lenta e veloce, 2 velocità delle prese di forza, 540 mg, differenziali ovviamente col bloccaggio, 4 ruote motrici e disinseribili, 6 quintali di sollevamento, ovviamente poi dovremmo utilizzare delle zavorre e è già predisposto con due distributori idraulici, due distributori idraulici che in questo caso ci aiutano a spostare un trincia, un releato da 120 con mazze, quindi anche qua se abbiamo la necessità di utilizzare i distributori idraulici questo trattore è già adottato, trattore molto piccolo, compatto, trattore che sicuramente vi potrà aiutare nei vostri lavori in vigneti, frutteti, piccoli appezzamenti di terreno, quindi vi invitiamo a venire a vedere questo trattore che è sicuramente molto interessante anche dal punto di vista del prezzo, perché è un prezzo veramente aggressivo, contattateci o venite a trovarci, alla prossima! Grazie! 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 Grazie!